Forza Italia chiede alla Regione Avruzzo e al Comune di Pescara di trovare una soluzione per sbloccare i 15 milioni di euro necessari per realizzare il primo lotto dei lavori del Master Plan per la deviazione del porto canale di Pescara. Fondi che dopo che l'Arap, stazione appaltante, ha richiesto il parere di valutazione di impatto ambientale calcolando l'IVA 0, quando invece il calcolo doveva essere al 22%, hanno detto oggi alla stampa i capigruppo consigliari di Forza Italia in Regione Comune Lorenzo Sospiri e Marcello Antonelli, ha portato ad un blocco del finanziamento poiché in base a tali calcoli cambia la competenza dell'autorità portuale che diventa nazionale, rischiando così di far arenare tutto il progetto di ristrutturazione del porto canale per un anno. Il capogruppo Sospiri, che annuncia un emendamento alla legge finanziaria che sarà in discussione in consiglio regionale, chiede al presidente Vicario Giovanni Lolli di intervenire presso l'autorità portuale di Ancona per risolvere il problema e al sindaco Marco Alessandrini di convocare al più presto un incontro con tutte le istituzioni interessate. Rischiamo di tenere bloccate opere giustissime di realizzare che noi sosteniamo e che tra l'altro finanziamo come Regione Abruzzo non dovendolo perché il porto canale di Pescara è un'opera nazionale di tenerle bloccate per molti mesi perché giustamente il Comitato Via ha registrato che se tu inserisci in un quadro economico l'IVA a zero di pagamento vuol dire che è un'opera di caratura nazionale come porto e quindi va alla valutazione di impatto ambientale nazionale. In realtà si è cercata la solita scorciatoia per non prendere atto che le risorse erano sufficienti e che andavano ricercate risorse necessarie avendo una dura trattativa con l'autorità portore del Medio Adriatico che pensa solo a Ancona e non a Pescara. Tutte queste cose noi le abbiamo dette. Ora non far partire velocemente quelle opere vuol dire non solo mettere in difficoltà gli operatori del porto, pescatori e operatori commerciali di ogni tipo ma anche continuare a non avere risposte concrete sui nostri livelli di balneazione quindi mettendo in crisi l'intero sistema turistico della nostra città. Io spero che ci si dia una mossa e che si trovano i soldi per completare il quadro economico dell'importante opera che è la riqualificazione del nostro porto.